Take off your clothes, blow up your father, don't be so shy, you're right, you're right Take off my clothes, go bless me father, don't bless me wife, you're right, you're right Teenage Mutant Ninja Tartan! Ciao a tutti i credits e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo su Tartaruga Ninja Mutantia Manhattan Questo gioco è uscito da pochissimo, quindi voglio provarlo insieme a voi Quindi senza indugio andiamo a vedere di cosa si tratta Visto che sono da solo, oggi giocherò in modalità storia Bene, dovevo scegliere il personaggio Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Donatello Il mio personaggio preferito è sempre stato Raffaello, quindi sceggo Raffaello Adesso lo lasciamo così, andiamo Bene, si comincia Sconfiggi tutti i nemici Andiamo a vedere un po' come Oh, funziona bene E qui Cosa è successo? Olè Ma si? Olè Olè Vediamo un po' come funzionano gli attacchi Olè Completato Prima missione Sconfiggi tutti i nemici S Sì Datemi un'altra fetta di pizza Quindi Dove dobbiamo andare? Olè Olè Muori Che attacco Si dai Mandoci le coordinate Uuuuuhu Aham Oh Olè Che sarà il posto dove devo andare? Chi lo sa Vado a vedere Scusate amici Aham Porta l'arma Portale Che cosa? Eh È una parola Scusate ragazzi Ma vi devo lasciare Frantumagushi Scusate ma io Devo lasciare Le cose Wuhuuu Che bello Rotolone Devo andare A pausare Questo rotolone A mare Yeah Fuck you Ciao ragazzi Amici Non vi preoccupate Sto solo a prendere il vostro coso Ma what the fuck Volevo fare una cosa Troppo pro Ok Fa un po' di Eh Si 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 Vi do retta Olè Portato al portale Si grazie Doni Tu dici Trova il rapinatore Tu sei il rapinatore? No No certo Peccato Vabbè Questa altra missione è completata Non ho capito bene come fare a prenderlo Ciao belli Che facciamo? Oh no Dio Raggiungi Beboop Tu dici Yuhuu Dai ragazzi Ecco Entriamo Ciao a tutti Bentornati A tutti Cavo della banca Quindi Attenzione 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 Si è aperto il cavo Ciao Ciao Io sono il cinghiale Tamarro Che si allunga Con una sega elettrica Qualche guscio Bene Adesso dobbiamo combattere Contro il boss Concentriamoci Questo boss A sette vite Vai attacchiamolo Non vedo niente Ma dai Va bene così Basta che ci vediamo le vite Dov'è? Ti rifronti È game over No Cos'ha Super shooting È un cos'è Uso È un cos'è Vediamo un po' Questa è la tecnica Secondo me Marc Dai L'abbiamo quasi sconfitto Si Muori Muori Muore 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 Ah, eh che caspita. Eh sì, eh dai. Finalmente. Quindi? Ta-da! Ragazzi, per questo video è tutto. È un gioco molto, molto, molto d'azione con molte missioni. Fatto anche bene. Devo dire che per questo video è tutto. Alla prossima. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace. E se volete che continuo la serie, al prossimo puntata sarà 15 visualizzazioni. Quindi condividete il più possibile. Arrivata a 15 visualizzazioni ci sarà il secondo episodio. Ciao a tutti, Crazers! Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.